Sabato 20 gennaio sarà un giorno di festa per la comunità di Terra Nuova e non solo. Sarà il giorno infatti in cui due beni sottratti alle mafie, ovvero una villetta in località alle ville, e un capannone in via Poggilupi nei pressi del casello autostradale verranno messi al servizio della collettività. Un segnale veramente di una comunità e delle istituzioni che rispondono a chi nel corso degli anni ha cercato comunque di arricchirsi in modo illegale, ha cercato in qualche modo comunque di ammalare un'economia che invece è un'economia sana e che noi dobbiamo salvaguardare. Ringrazio il Comune di Terra Nuova Bracciolini sicuramente per lo sforzo che ha fatto insieme alla Regione Toscana che ha finanziato questo intervento molto importante, una giornata veramente di festa, ci saranno i familiari delle vittime a cui saranno intitolati i beni. Il capannone di via Poggilupi si chiamerà Spazio Valarioti, da Giuseppe Valarioti, insegnante ucciso a 30 anni in un agguato mafioso nel 1980. L'abitazione situata nella frazione delle ville prenderà il nome di Villetta Nencioni. La villetta confiscata nella frazione ville verrà utilizzata per l'emergenza abitativa perché sappiamo quanto è importante dare una risposta alla nostra comunità per quanto riguarda le case, per le abitazioni, mentre il capannone che è stato confiscato in via Poggilupi verrà utilizzato come rimessa per i mezzi comunali della protezione civile come archivio. La villetta verrà intitolata alla famiglia Nencioni, purtroppo vittima dell'ondata stragista del 1993, mentre il capannone a Giuseppe Valarioti. È stato un giovane amministratore che ha lottato vehementemente contro la cultura mafiosa e contro l'andrangheta è purtroppo rimasto vittima per l'appunto di un attentato. Saranno presenti tra l'altro tutti i familiari a valorare ulteriormente questa restituzione alla collettività di beni che sono stati utilizzati contro le nostre comunità e che invece avranno un utilizzo inclusivo importante per tutto il Val d'Arno e non solo per Terra Nuova. Ci tengo a ringraziare la regione toscana che ha finanziato questi due importanti interventi e soprattutto anche Libera Val d'Arno perché ha avuto veramente una presenza sempre costruttiva e è stato un continuo stimolo per ottenere insieme questo risultato. Invitiamo tutti ad essere presenti sabato alle ore 11, inizierà la commemorazione alla villetta confiscata alle ville, dopodiché ci sposteremo in via Poggilupi al Capannone.